Un'altra volta che mi state, c'è un'altra volta d'albanio, ma scuscia e l'aggia in realtà, e vorrei venire dal canale un po' da me. Una canale, una fredda sempre, a fine e fine, dopo una notizia. Non sono mai avuto, ho visto questo libro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.